salve a tutti e bentrovati sul mio canale ora commentiamo la finale tra Novak Djokovic anzi la scusate la semifinale pardon sono già proiettato in avanti tra Novak Djokovic e Yannick Sinner perché si è conclusa qualche ore fa io l'ho vista diciamo in diretta poi però sono crollato adesso sono circa le due di pomeriggio e con qualche ora di ritardo ne parliamo insieme prima di cominciare come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like qui sotto se volete che continui a parlare di tennis e comunque in generale a variare un po gli argomenti del canale fatemelo sapere ovviamente sapete che qui il primo argomento è One Piece ma diciamo che ho diversi interessi quindi posso parlare di più cose quindi se vi interessano i video sul tennis mi raccomando fatemelo sapere allora la partita tra Novak Djokovic e Yannick Sinner di questa notte questa mattina praticamente per l'orario italiano è stata veramente veramente interessante perché nei primi due set c'è stato un dominio completo di Sinner una cosa che era praticamente impensabile nel senso molti si aspettavano un match tiratissimo equilibrato probabilmente su cinque set e non è stato così non è stato così perché Sinner veramente ha dominato come probabilmente non aveva mai fatto almeno contro Djokovic non aveva mai dominato così anche nelle partite che comunque aveva già vinto alle finals in altre occasioni quindi si è dimostrato un tennista molto intelligente perché credo che abbia letto come forse nessuno come pochissimi hanno fatto il gioco di Novak Djokovic e si è riuscito a trovare un po le contromisure diciamo che per i primi due parziali della partita sembrava proprio che fossero su due livelli completamente diversi il che fa fa un pochino specie se parliamo del del tennista più forte della storia comunque quello più vincente no Djokovic è il tennista che ha vinto di più in assoluto nella storia del tennis ma oggi nei primi due set sembrava veramente che fosse di un livello inferiore le gambe non andavano la prima di servizio non entrava mentre Sinner da da fondo campo è praticamente un robot cioè in questo diciamo che sono abbastanza simili anche perché comunque quella tipologia di gioco di martellamento da fondo campo che per tanti anni ha garantito a Djokovic la vittoria su praticamente tutti gli altri adesso gli si è un po' ritorta contro nel senso che ha trovato un giovane appunto Sinner che fa un po un gioco simile al suo che ha un rovescio fortissimo ma è fortissimo anche comunque con il dritto e che quindi da fondo campo non lascia spazio tra l'altro Sinner sembra che anche in risposta stia migliorando tantissimo quindi anche quello è un altro un altro aspetto del gioco di Djokovic che Sinner ha fatto un pochino suo quindi è come se giocasse un pochino allo specchio con una versione di se stesso per certi versi più giovane più performante e quindi oggi veramente Sinner ha dato proprio l'impressione di essere in controllo anche per quanto riguarda la tenuta mentale che è un altro degli aspetti del gioco di entrambi oggi c'era un Djokovic quasi irriconoscibile in campo nel senso che lui è un tennista che ha fatto della sua carriera ha basato la sua carriera anche sulla forza mentale quindi sul fatto che quando magari si trovava in difficoltà comunque reagiva quasi rabbioso no ringhiava in campo ecco oggi mi è quasi sembrato di vedere un Djokovic spento un po' rassegnato come se sapesse che comunque non avrebbe potuto ottenere un risultato diverso anche magari urlando imprecando no digregnando i denti come fa spesso c'è stato qualche momento in cui si ha chiamato il pubblico a raccolta però veramente anche dal punto di vista dell'attitudine ho visto un po' un Djokovic diverso dal solito questo non non so se magari era una giornata storta o magari all'inizio veramente del declino di Djokovic però ho avuto una sensazione strana guardando questo match come se ci fosse stato un passaggio di consegne ora vediamo perché comunque è presto per dirlo però insomma c'è stato solamente un terzo set equilibrato dove Djokovic ha annullato match point a Sinner quindi facendo un po' il Djokovic però poi nel quarto set come se nulla fosse Sinner è partito di nuovo tranquillo no perché a quel punto avrebbe potuto pensare oddio si è svegliato Djokovic adesso è tutto in salita invece no era consapevole che nei primi due set aveva dominato ha archiviato il terzo parziale ha detto sai che c'è ricominciamo come prima tranquillo e questa secondo me è una delle caratteristiche proprio forti di Yannick Sinner per cui attenzione attenzione adesso cosa succede c'è la finale la finale contro Daniel Medvedev si è appena conclusa in questi minuti in cui sto sto parlando la si è appena conclusa la finale l'altra semifinale tra Daniel Medvedev e Alexander Zverev Zverev che veniva dalla vittoria molto molto prestigiosa su Carlos Alcaraz e che stava vincendo anche la partita di oggi i primi due set sono stati vinti dal tedesco poi Medvedev ha rimontato quindi ha rimontato gli ultimi tre set dimostrando anche lui di avere comunque una forte caparbietà una forte forza mentale mentre Zverev che comunque fino a poco tempo fa aveva una situazione piuttosto critica perché era reduce da un pesante infortunio insomma Zverev sembra essere tornato ai livelli prima dell'infortunio quando era lanciatissimo per diventare anche lui uno dei futuri dominatori del tennis anche se dal punto di vista mentale ha sempre mostrato qualche piccola lacuna e oggi si è vista contro Medvedev appunto aveva la partita in pugno due set a zero poi però piano piano il russo che comunque non è sembrato il miglior Medvedev di sempre è riuscito a ribaltarla ora si arriva alla finale con un precedente o meglio i precedenti tra Sinner e Medvedev sono 6-3 a favore del russo quindi il russo ha vinto più confronti diretti però bisogna anche dire che Sinner ha vinto gli ultimi tre scontri diretti quindi prima Medvedev era 6-0 contro Sinner quindi in qualche era la sua bestia nera e negli ultimi tre confronti Sinner è riuscito a ribaltare completamente il pronostico quindi vincendo gli ultimi tre precedenti quindi se guardiamo lo storico generale potremmo dire Medvedev è favorito però se guardiamo gli ultimi match in realtà la bilancia pende dalla parte di Yannick Sinner che quindi a mio avviso arriva in finale da favorito anche perché ha giocato meno ore in campo è stato probabilmente più performante in questo torneo specifico anche perché ha perso solo un set il tie break di oggi contro Novak Djokovic Medvedev diciamo che non ha avuto un torneo così eclatante ha perso vari set oggi in semifinale con Zverev addirittura era sotto 2-7 a 0 quindi io mi sento di dire che Yannick Sinner è favorito ma attenzione non bisogna mai sottovalutare Medvedev in questo tipo di partite ricordiamoci che comunque è una finale slam Medvedev ha già vinto un torneo dello slam cosa che Sinner ancora non ha fatto penso comunque che se non sarà questa finale succederà a breve in ogni caso è un match che sulla carta sembra molto molto interessante per Medvedev appunto la terza finale agli Australian Open quindi attenzione fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate se avete visto la partita di Sinner quella di Medvedev fatemi un vostro pronostico sulla finale io penso comunque che siamo arrivati ormai a un punto di svolta per il tennis italiano e soprattutto un evento storico manca solamente la ciliegina sulla torta se Yannick Sinner dovesse vincere la finale sapete bene che sarà il primo italiano a vincere in Australia in assoluto e il primo dai tempi di Panatta dopo Panatta appunto Pietrangeli ma si parla di per quanto riguarda Pietrangeli si parla proprio di aeree geologiche era il tennis addirittura prima dell'era open quindi era quasi un altro sport diciamo dai tempi di Panatta sono passati una quarantina d'anni anche più sarebbe il primo italiano in assoluto a vincere in Australia e uno slam dopo così tanto tempo non che io credo Sinner abbia anche ottime possibilità in futuro per poter diventare proprio il numero uno del tennis mondiale in questo penso sarebbe il primo tenista in assoluto nella storia del nostro paese comunque fatemi sapere un po la vostra lasciate un like qui sotto mi raccomando e continuate a seguirmi su YouTube un saluto da TNBT e ci vediamo con i prossimi video ciao